ciao a tutti quale miglior modo per poter iniziare questo nuovo anno se non portandovi indietro nel tempo per l'appunto oggi voglio fare un viaggio nel tempo con una carrellata di foto di cantieri italiani dagli anni 50 ai primi anni 80 anni che non torneranno mai più per qualcuno un ricordo di gioventù e di tante avventure mondo fatto di palle cingulate e scavatori a corde e vecchi camion che si potevano riparare con un fil di ferro due martellate e per noi veneti qualche bestemmia da uscire al busto delle congiunzioni Ciao a tutti! Quale miglior modo per poter iniziare questo nuovo anno se non portandomi indietro nel tempo? Per l'appunto, oggi voglio fare un viaggio nel tempo, con una carrellata di foto di cantieri italiani dagli anni 50 ai primi anni 80, anni che non torneranno mai più, per qualcuno un ricordo di gioventù e di tante avventure. Mondo fatto di palle cingolate, escavatori a corde e vecchi camion che si potevano riparare con un film di ferro, due martellate e per noi venditi qualche bestemmia da usare al posto della congiunzione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!